Si prende secondo tempo, non c'è vantaggio però torreti a 2 e non c'è vantaggio, non c'è vantaggio 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 Vantaggio Non c'è 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 vantaggio E' un po' di più. E' un po' di più. E' un po' di più. Non pari colorai. Vai lì! Vai lì! Vai lì! Dai! Goalowo. Ascolti. Vas far with it. Mori, mori, mori. 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 non è voluto finire 15-2 5-5 si dovevano chiudere invece hanno aperto completamente i panzi hanno peggiorato la situazione 100% proprio non c'è uno che nemmeno per sbaglio non entra non entra ora è un di coppa sono 12 io mi ammazzo è un colore brodo è da cambiare proprio non c'è solo tant'è qua a settembre dobbiamo cambiare tutto eh buona Marco buona Marco scendi 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 ehi scendi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come ti inizi a entrare? Non vedete se ti inquarcio. Ma fallo mettere in porta. Ti rimangono in tre. No, in porta. In porta. No, in porta. No, in porta. Non è la chiave. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.